Ok, siamo live, a me è un secondo controllare, ok, perfetto, aspettiamo altri due minuti. Ok, siamo live, assalamualaikum sovake, a me è Tashina, Italia, Ancona, a tegevo, a me è oggi, a me è oggi noto l'espastro, ma non si non mi ha fatto ne, in cui c'è oggi si un sito, o la per esempio, a me è qui. A me è comello, che si non ci sono stati, non ci sono stati, non ci sono stati anche, ma non ci sono stati, non ci sono stati, non ci sono stati, ma non ci sono stati, anche nei presenti sono stati, abbiamo fatto il 4 di parte del territorio, Buongiorno a tutti. La prima domanda che vorrei fare, ci potrebbe spiegare dettagliatamente chi può fare la richiesta di essere regolarizzato e come può fare la richiesta? Grazie. Prego, dottoressa. Allora, di nuovo grazie dell'invito e rispondo subito a questa domanda per quanto riguarda la regolarizzazione dei migranti presenti qui in Italia. Questo, prima di dire i contenuti della regolarizzazione, vorrei precisare che la borsa che abbiamo ancora non è uscita nella casetta ufficiale, ma sostanzialmente noi prevediamo che non ci saranno molte modifiche. Anche perché l'interrumpo ieri e ho sentito il Presidente Conte che aveva detto che oggi molto probabilmente dovrebbe essere uscito questo decreto. Esatto, oggi o domani comunque avremo il testo nella casetta ufficiale perché il testo non riguarda tanto la regolarizzazione ma riguarda… Scusi, puoi alzare la voce un pochino per favore? Il testo… Mi senti adesso? Sì, ancora perfetto. Allora, il testo molto probabilmente uscirà a momenti, oggi o domani nella casetta ufficiale. È un testo che riguarda tante misure, di qui la regolarizzazione appunto dei stranieri presenti in Italia. Ok. Allora, cosa prevede questa regolarizzazione? Questa regolarizzazione non è come gli altri. Io da diversi anni che lavoro nel campo dell'immigrazione, le tante regolarizzazioni che sono state fatte non sono state regolarizzazioni, diciamo così, limitate soltanto da alcuni settori produttivi. Questo invece riguarda intanto alcuni settori specifici, il settore dell'agricoltura, il settore dell'allevamento, dell'acquacultura e il settore dei colfe e badanti. Tutti coloro che hanno la possibilità di avere un datore di lavoro e che li regolarizzano possono far parte da questa regolarizzazione. Quindi lei dice che bisogna andare in cerca per cercare un datore di lavoro? Un datore di lavoro che ti mette in regola in questi settori elencati, che vi ho elencati poco fa. Tutto il settore primario, insomma, quando parliamo di agricoltura, allevamento, pesca, stiamo parlando del settore primario. E poi ci sono i colfe badanti che riguardano il lavoro di casa, il lavoro di cura, assistenza domiciliare come i badanti che possono seguire gli anziani nelle case. E come possono fare questa domanda? Intanto questo è il datore di lavoro che fa la domanda e la domanda dichiara che ha le sue dipendenze un lavoratore straniero impiegato in nero. Su questo la procedura è di pagare 400 euro forfettario, 160 euro per quanto riguarda invece le spese, gli oneri diciamo così le spese. Quindi 400 euro dovrebbe pagare il datore di lavoro quando assume? Subito, sì. Quando ha le sue dipendenze un lavoratore, un lavoratrice immigrato senza documento dovrebbe pagare un contributo forfettario di 400 euro. E altri 160 euro riguardano invece gli oneri, diciamo così i costi per quanto riguarda il rilascio, gli permessi di soggiorno, eccetera. Quindi 160 euro sono gli oneri, se ho capito bene. Esatto. Ok. L'altra cosa, in questa regolarizzazione c'è una durata di sei mesi. Non è anche un po'... È fisso quindi questa durata? Questa durata è fisso e stiamo parlando di sei mesi di durata. Ok. Quindi come se fosse un periodo calcolato, diciamo finché non passa l'emergenza. Esatto, finché non passa l'emergenza, ma molto probabilmente, conoscendo bene l'Italia, può essere che anche strada facendo possono modificare alcune cose. Aspettiamo di vedere i decreti attuativi e come andrà questa regolarizzazione, perché non è detto che andrà a buon fine, perché ci sono in questo momento in Italia oltre 700 mila persone che sono senza documenti, e questi sicuramente l'Italia lo dovrebbe regolarizzare. Limitarsi, contanto, a alcuni settori che sono importanti, lasciando fuori molti altri, rischerebbe di essere, diciamo così, una liberalizzazione non rispondente ai bisogni del paese proprio. Tra questi 700 mila possiamo dire che più di mille persone in Italia, ci saranno anche bengalesi che purtroppo non lavorano in quei settori agricoli, ma lavorano in altri settori. Però ritorniamo dopo su questo. E adesso, se mi lasci un minuto per spiegare in Bangla quello che hai risposto. Va bene. Grazie a tutti. 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 Lui c'ha praticamente il soggiorno dove hanno sbagliato il nome? Dal passaporto. Nel passaporto o nel soggiorno? Nel passaporto. Beh, quello è il passaporto. Lo sportello unico non ha problemi se uno ha una regolarizzazione in corso, presenta un passaporto, ci sono requisiti, è chiaro che gli danno il soggiorno. Se invece lui il passaporto è sbagliato, però questo passaporto ha una data che magari potrebbe servire come prova che era qui. Ok. Antidatata, nel senso che è data da quando ha avuto il passaporto. Questo alcune ambasciate lo fanno per aiutare i loro connazionali. Però come passaporto, se lui vuole avere le generalità giuste, deve andare dall'ambasciata dicendogli che guardate che io ho un passaporto con questo nome, che non è quello giusto. Tuttavia, gli danno un nuovo passaporto, magari, però con il nuovo passaporto riporta la data sicuramente dopo l'8 marzo. Ok. Sapendo che adesso pure gli ambasciati non sono aperti. Quindi questo è un problema che riguarda l'ambasciata. Tuttavia, nulla vieta che possa regularizzare se si trovandrà tutta l'ambasciata. Quindi, la nostra domanda è un passaporto con il passaporto con il passaporto. è un passaporto con il passaporto con il passaporto. Ok. Poi, la seconda domanda. Chi non rientra in queste categorie? Ad esempio, coloro che lavorano nel settore canteristico, ristorazione, alberghiero o fabbriche. Cosa possono fare? Da parte della CGL, che proposte ci sono per tutelare queste persone? Allora, intanto per noi questa sanatoria non risolve tutti i problemi delle persone irregolari qua. Noi per ben tre volte abbiamo scritto al Ministero del Lavoro degli interni degli affari esteri per chiedere alcune cose che riguardano i migranti. Una era la regolarizzazione di tutti i migranti presenti nel territorio nazionale, cercando anche di non legare soltanto la permanenza al contratto di lavoro. Questo come posizione come CGL e CISUIL, perché l'abbiamo fatto tutti e tre sindacati, chiedendo una regolarizzazione abbastanza semplice, visto anche l'emergenza sanitaria di cui siamo tutti colpiti. Sì, non solo del settore primario, ma anche del settore secondario? Tutti i settori. Noi avevamo una sanatoria di tutti i settori, ma anche coloro che non avevano potuto magari avere contratto, di dargli un soggiorno per ricerca e occupazione. Ok. Su 600.000-700.000 persone possono esserci qualcuno che non ha un contratto, però è presente nel territorio. A questi anche abbiamo chiesto la possibilità di avere un soggiorno di un anno per ricerca e lavoro. E questo non è ancora approvato? No, questo l'abbiamo chiesto, però il governo su questo non ci ha dato risposta favorevole. Stiamo continuando però a lottare perché sappiamo benissimo che per due o tre mesi cominceremo a capire che la situazione è molto più complessa rispetto a noi. Esatto. Invece è una domanda di tanti questo. Coloro che lavorano o hanno lavorato regolarmente per due o tre anni con un permesso di soggiorno di richiesta asiro politico o umanitario e hanno avuto il ricetto definitivo dopo qualche anno questo decreto permette anche a loro di fare la richiesta? Io spiego un attimo in Bangla le domande che ho fatto a te. Io spiego un attimo. E' una domanda di richiesta di occupazione, di aspettative di occupazione. C'è una domanda di occupazione? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il prossimo ricorso si fa alla cassazione. Quindi tutto dipende se hanno un soggiorno scaduto o no. Chi ha il soggiorno scaduto può fare la regolarizzazione in questi settori di cui ho parlato prima. Chi ha scaduto? Invece chi non ha scaduto dovrebbe aspettare la cassazione. Esatto. Che non è scaduto magari che ha questa ricevuta che ti dà la costura, quelli possono lavorare. Puoi spiegare anche come funziona questa cassazione? La cassazione allora, quando uno viene in Italia, fa la domanda di un giro politico, c'è una commissione che ti deve convocare. La commissione esamine la tua domanda, vede i requisiti, in quel caso dà l'ok, dà il consenso, dici ok, tu hai diritto. In quel caso il permesso di soggiorno ti viene dato per tre motivi specialmente. Qualcuno può chiedere richiesta d'asilo, ma non gli danno asilo, gli danno motivi umanitario o motivi sussidiarie, ma addirittura come rifugiato politica. Sono tre tipi di soggiorno quando tu fai la richiesta d'asilo politico. E quindi in quel caso chi ancora ha la validità deve aspettare la risposta dalla cassazione e se la cassazione rifiuta dovrebbe andare a cercare lavoro. E' la validità del permesso. Ok. Dobbiamo vedere se c'è il soggiorno per motivi umanitari o richiedente asilo. Questa è la differenza, bisogna chiedere alla persona se il soggiorno che c'è è scritto richiesta d'asilo, vuol dire che ancora la risposta definitiva non c'è. Ok. Non c'è la risposta definitiva. Non c'è la risposta definitiva. E quindi possono lavorare tranquillamente ancora. Però la legge prevede che quelli che hanno richiesto d'asilo dopo due mesi possono lavorare. Ok. Però quando fai la richiesta normalmente ti dovrebbero rispondere in modo positivo o negativo. O addirittura la richiesta d'asilo che hai chiesto invece di darti il soggiorno come rifugiato in questo caso, ti possono dare il soggiorno come motivi umanitari. Ok. Ma nel caso che la richiesta viene rifiutata già dalla commissione, ok, in quel caso fai ricorso al tribunale, primo grado. Ok. Se il primo grado rigetta il tuo ricorso, l'unica possibilità che hai è andare alla Cassazione e fare un altro ricorso. Ok. Perché prima del decreto di sicurezza di Salvini, uno poteva fare la domanda, la commissione rifiuta la domanda, fai un primo ricorso al tribunale, poi il tribunale primo grado rifiuta, tu avevi anche l'appello secondo grado. Il secondo grado purtroppo il decreto Salvini l'ha eliminato, quindi deve andare direttamente alla Cassazione per fare il ricorso. Invece, coloro che hanno motivi umanitari, questi possono convertire il soggiorno da motivi umanitari al lavoro, presentando un contratto di lavoro. Questo lo sanno. Ok. Presentando quindi passaporto, tutto quanto, contratto di lavoro e questi hanno il soggiorno per motivi di lavoro. Quindi, diciamo che quelli che hanno completamente il soggiorno è scaduto, nonostante che hanno fatto la richiesta d'asilo, quindi non ci sono né ricorsi fatti, niente, questi sono, diciamo, irregolari, senza soggiorno. Ma dal momento che c'è il soggiorno è un'altra cosa. Grazie. 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 Poi, volevo chiederti un'altra cosa, una cosa che interessa moltissimi. Sappiamo che ci sono tanti vengalesi immigrati rimasti bloccati nei loro paesi, molti lavorano, probabilmente la loro ditta ha aperto anche Cassa Integrazione. Quali sono le misure che il governo ha attuato per loro? Allora, intanto le misure... Grazie. 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 in cassa integrazione l'azienda, apre la cassa integrazione per 100 persone, tutti questi 100 persone dovrebbero essere compresi adesso, quello che si trovano all'estero non si devono preoccupare, intanto devono sapere, per coloro che hanno soggiorno in scadenza o scaduto, noi come CGL abbiamo già chiesto al governo e sollevato questo problema quindi tutti i soggiorni scaduti sono prorogati fino al 31 agosto quindi anche altri documenti come carte di identità o tessere sanitarie, tutti altri documenti che ci sono? Tutti sono validi fino al 31 agosto quindi coloro che si trovano all'estero possono tranquillamente sapere che i loro soggiori... Quindi possono tranquillamente rientrare pur avendo permesso... Quando aprono i voli si cominciano a fare rientro per tutti quanti dopodiché l'altra cosa pure che è molto importante che i migrati che sono all'estero quindi i bengalesi che sono all'estero che una volta che sono aperti i voli anche con i soggiori scaduti perché ancora non sappiamo quando il confinamento finirà potranno entrare tranquillamente senza problemi anche col soggiorno scaduto perché lì c'è proprio poi ti manderò il documento che tradurai in Bangladesh in Bengali dove proprio il Ministero di Affari Esteri ha avvertito informato tutte le ambasciate tutte le rappresentanze diplomatiche dicendo che appena finito l'emergenza sanitaria tutti i stranieri che sono all'estero anche con il soggiorno scaduto possono rientrare senza nessun problema anche tramite diciamo informativi dei vari consulati che sono questo è uno dei grandi problemi risolti diciamo esatto questo l'abbiamo risolto è stato un bel risultato grazie Vado un paio di domande qui c'è una persona che ha chiesto che lui quando tornano che l'azienda dove lavoravano era in cassa possono chiedere il pagamento diretto all'Inps quindi non è necessario che chiedano all'azienda ma basta che vanno all'Inps l'azienda non è prevista nella lista loro possono chiedere all'Inps gli arretrati che è un'azienda Quindi ci sono i passaporti che non hanno passaporto, sono irregolari ma non hanno passaporto, in quel caso loro possono chiedere la sanatoria. Intanto se non hanno passaporto avranno un documento di validità, carte di identità o no? Sì, sì credo. Allora, di solito se l'azienda ti fa la domanda di regolarizzazione, con quella domanda lì è chiaro che l'ambasciata ti favorisce per avere il passaporto, perché c'è una regolarizzazione in corso. Quindi non credo che quello sia un problema, l'importante è che comunque ci sono un perso di carta che dimostra che ti chiami Jamal. Quindi per ora basta con quel foglietto possono andare a chiedere il lavoro? Per ora? Il passaporto semmai si potrebbe rivedere quando si aprono le ambasciate? No, il giudizio verrà rilasciato, sì. L'altra cosa ti volevo dire che è molto importante, che i dati di lavoro possono essere anche stranieri, che regolarizzano altri stranieri. L'importante è che siano imprenditori con la partiteiva italiana? No, no, è tipo un badante, io stesso posso assumere una badante, perché ho una forza. Capito? Lo straniero può assumere anche un altro straniero. L'importante è che siano imprenditori con la partiteiva italiana. Ok. Grazie a tutti. Ok, sì, bisogna precisare questo, esattamente. L'ultima domanda. Ci può parlare del decreto rilancio Italia e spiegare quali sono gli aiuti economici che i residenti possono usufruire e i nostri connazionali possono chiedere questi aiuti? Allora, il decreto rilancio, la maggior parte riguarda diciamo aiuti che riguardano le aziende, prende anche le misure di sicurezza per i lavoratori all'interno dell'azienda. Poi ci sono dei aiuti per sostenere le persone in difficoltà. Poi ci sono alcuni interventi come l'altra volta il decreto cura Italia che riguardano i lavoratori autonomi. E se il decreto che lo Stato avrà previsto, anche questo decreto lo prevederà, arriverà a mille euro a persona. Da maggio in poi? Esatto, perché ci avranno un aiuto di questo tipo di mille euro per lavoratori autonomi. Da questo punto di vista, la prima volta che si era parlato di questo decreto Italia, 600 euro per gli autonomi, dopo ho sentito che ci sono di nuovo 600 euro per il mese dopo. Sì, quindi due volte 600 euro, poi quello d'aprile dovrebbe essere 600 euro, da quello in maggio in poi 1.000 euro. Fino a 1.000 euro. Fino a 1.000 euro. Questo qui del decreto Italia, rilancio Italia, parla di 1.000 euro. Ok, quindi non ci sarà un'altra seconda fase con i 600 euro? No. Ok, chiaro. Allora, allora, tu non hai fatto 600 euro, si ritroveranno anche di poter chiedere i 600 euro che non avevano fatto di chiesa all'altra volta. Ok. Allora, tu non hai detto specifico cosa, che decreto cura Italia, che c'è un decreto Euro di base a dirke, a dichiaro che ci sta accorato a dirke, a dirke che c'è un decreto europeo che non aveva without sa dissi a dirke. Voi che c'è un decreto, quindi quello che non aveva dalla fase con i, adesso, è un decreto anche di fatto di 98 euro, ma io ho aspetto a dirke, che dell'euro che ci sono ощущate da dire che ci sono stati molto strano e di riso, e allora dal decreto rilancio Italia o decreto cura Italia, quali sono gli aiuti economici invece per le famiglie? Allora per le famiglie diciamo c'è questo chiamato reddito di emergenza che puoi accumulare anche con reddito di cittadinanza che c'era con il precedente governo e questo reddito di emergenza ancora l'importo varia diciamo da una cifra che va da 400 a 600 euro tuttavia dobbiamo aspettare il decreto attuativo quando sarà prima nella gazetta poi il decreto attuativo per capire bene in cosa consiste questo reddito di emergenza. Ok quindi ancora non è una cosa tanto chiara giusto? No no è chiara dentro il decreto ma l'importo ancora non lo sappiamo. Loro che ricevono reddito di cittadinanza può essere accumulato in che senso? Cioè puoi chiedere anche reddito di emergenza. Prima loro erano esclusi coloro che ricevevano reddito di cittadinanza per altri aiuti. Mentre questo tipo di intervento che si chiama reddito di emergenza è accumulabile anche con reddito di cittadinanza. Questo è molto importante per le persone in difficoltà. Poi l'altra novità è che vengono anche sostenuti i colp e badanti. Ok. Una cifra che va da 400 a 600 euro, una tantum. A coloro che lavorano oppure a coloro che assumono i colp e badanti? No no, i colp e badanti. Ok. Che hanno visto riduzione del lavoro loro quindi magari lavoravano 25 ore e le ore sono diminuiti. Questi vengono previsti dei contributi che vanno dai 400 ai 600 euro. Ok. L'altra novità è che i congedi parentali, che sarebbe una disposizione prevista da sempre per chi ha figli, di poter rimanere a casa, figli meno di 12 anni, guardarli, non andare al lavoro. prima prevedevano il pagamento del 30% dello stipendio, invece con DL Italia questo congedo parentale è aumentato al 50% della retribuzione. Questo è anche un fatto importante. Quindi il 50% dell'aumento? Il 50% della retribuzione avranno. Allora do un esempio pratico. Io ho dei figli piccoli, meno di 12 anni, sto lavorando ma non posso andare a lavorare perché comunque ho i miei figli a casa che la scuola è chiusa. Allora la legge ti consente cosiddetto congedo parentale, vuol dire che puoi seguire i tuoi figli, vale per padre perché per la madre e il tuo stipendio ti verrà pagato al 50%, mentre prima era il 30%, adesso al 50% puoi stare a casa e guardare i tuoi figli. Quindi questa cosa non è necessaria che entrambi i genitori lavorino? No, no, dipende da un genitore che vuole rimanere a casa a guardare questi figli perché in questo confinamento sai benissimo che le scuole sono chiuse, quindi c'è il problema di guardare i figli dentro casa. Quindi se i genitori lavoravano, se i genitori uno non lavora per carità, guarda i figli, non c'è problema. In questo caso c'è un aiuto di 1200 euro per babysitter. Spiego velocemente quello che abbiamo appena detto. Sì. 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 L'associazione infelectual carts e powerless. Sì. Sì. È community? nuovo bene. Sì. 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 quando sei in casa non lo puoi fare la domanda non è previsto mi senti ok poi altri aiuti ci sono oppure sono solo questi poi vedremo la terza fase cosa prevederà l'apertura del primo di giugno cosa prevederà insomma la prima cosa prevederà l'apertura del primo di giugno di giugno di giugno di giugno di giugno la prima cosa prevederà l'apertura del primo di giugno di giugno di giugno di giugno di giugno di giugno prima della Ouais sono Grazie a tutti 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 Noi stiamo insistendo dicendo che le banche devono cominciare ad anticipare la casa Ci sono alcune manche che lo stanno facendo Credo poi alcune Unicredito intesa San Paolo Esatto, alcune le stanno facendo, bisognerebbe anche questa via qui cercare di intraprenderlo perché sappiamo benissimo che l'IMSA ha delle difficoltà di erogare subito velocemente, non tutti l'IMSA è dipendente Dipende anche dai territori quindi interpellare le banche non sarebbe male anche perché la casa è stata prorogata anche per altri mesi quindi ci sono ancora dite che non sono in grado di aprire adesso per difficoltà anche economiche quindi fino a che ci sia la casa integrazione, se l'IMSA non pago subito cercare anche di parlare con le banche insomma. Se non arriva due mesi c'è un problema vuol dire che l'IMSA è in ritardo, in questo caso qui se tu hai le credenziali per entrare in l'IMSA puoi fare un sollecito diretto, altrimenti devi andare all'ufficio che te l'ha fatto e gli dici guarda che non lo ricevo e loro fanno il sollecito Ma in questi momenti gli uffici sono chiusi al pubblico? Domani aprono su appuntamento, il diciotto approno molti uffici Anche noi come sindacato apriremo gli uffici nostri come servizi e si fa le pratiche su appuntamento insomma rispettando le misure sulla sicurezza Grazie 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 tantissimo dottoressa Selle per essere stata con noi e aver dedicato questo preziosissimo tempo a noi e alla nostra comunità La ringrazio Per me è stato un piacere Vi l'invito presto quando ci saranno ulteriori novità per condividere con voi Grazie ancora Buon iftar Buon iftar anche a lei e a tutti gli altri Grazie Grazie Grazie